Io sono qua a presentare un libro che parla di intelligenza artificiale, quindi quello che si suppone possa anche sostituire l'umanità e che secondo me l'ha già abbondantemente sostituita, perché non so se ci possiamo dire umani, ma non tanto per la questione tecnologica, ma perché la tecnologia ci ha disinibito all'azione e quindi all'esercizio del libero arbitrio, che direi è una delle caratteristiche dell'essere umano, insomma gli altri animali più o meno pensiamo, almeno noi così riteniamo che facciano un po' quello che l'istinto gli dice, gli esseri umani dovrebbero essere caratterizzati da questa possibilità di scelta, che credo siamo diventati completamente incapaci di esercitare, tant'è che stiamo andando dritti e dritti verso l'estinzione, lasciamo che poche persone si impossessino di tutti i beni, ci schiavizzino e distruggano tutto e pur sapendolo siamo come spettatori, appunto come automi che non sanno che fare. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!